L'atmosfera natalizia di Pesaro con Christmas Village non si conclude il 25 dicembre ma continua fino al 6 di gennaio. Un villaggio di Babbo Natale sorto a pochi passi da Piazzale Matteotti che presenta tantissime attività, laboratori, interazioni, musical ma anche tanto altro. Questo è un parco tematico che abbiamo voluto portare a Pesaro per far rivivere la magia del Natale. Direi che ci siamo riusciti fino adesso, il bilancio è positivo nonostante il tempo non ci abbia aiutato ma pare che da oggi sia in netto miglioramento. Abbiamo voluto ricreare la magia del Natale attraverso delle esperienze da vivere all'interno delle nostre strutture. Lo facciamo attraverso l'ambientazione della casa di Babbo Natale, una vera casa con delle scenografie che riprendono proprio il vero ambiente di Babbo Natale. Dopodiché si passa all'ufficio postale, dove tutti i bambini hanno potuto scrivere la lettera a Babbo Natale ed imbucarla insieme agli Elfi in questa posta che è alta 9 metri. Dico hanno fatto perché ora è arrivato il momento della Befana, dunque la posta sarà caratterizzata in tutto quello che riprende il tema della Befana e le lettere verranno scritte alla Befana e si potrà entrare a far parte in quello che è il club della Beffi. Diciamo che è un elemento molto forte all'interno del nostro parco tematico, è proprio la Befana insieme a Babbo Natale. Da oggi fino al 6 di gennaio, che sarà il giorno di chiusura, i bambini potranno scrivere ed imbucare la letterina per fare in modo che non porti il carbone ma porti dei regali piacevoli. I nostri contenuti, sicuramente una parte centrale ce l'ha il laboratorio creativo, sono dei laboratori in cui i bambini potranno ritagliare, incollare e portare a casa dei gadget. Uno su tutti è il gancio della Befana, il gancio della Beffi, è un gancio che una volta colorato e ritagliato verrà attaccato alla maniglia delle porte, delle camerette dei bambini. Un'altra parte fondamentale è quella riservata al musical che va in scena 4 volte al giorno con tutti gli attori professionisti che danzano, cantano dal vivo e che quindi concretamente vanno a chiudere l'esperienza di chi viene a trovarci in villaggio. Con la Caritas abbiamo innanzitutto regalato 300 biglietti, l'abbiamo fatto per le famiglie più in difficoltà e poi abbiamo attivato questa possibilità di fare in modo di regalare a chi ne ha più bisogno un piccolo regalo con una dinamica molto semplice. Quando vai a comprare un dono per un tuo caro ricordati che aggiungendo qualcosina ne puoi comprare un altro, sempre nuovo ovviamente, da portare in villaggio e noi lo facciamo avere poi nei giorni a seguire a tutti i visitatori della Caritas che sicuramente apprezzeranno con cuore questa iniziativa.